I medici di base della provincia di Pesaro Urbino si stanno mobilitando per effettuare i test antigenici rapidi ai propri pazienti. Ad annunciarlo è stato Dario Bartolucci, segretario provinciale della FIMG, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, in una lunga intervista rilasciata al direttore Marco Ferri questa mattina, ed ha affermato che il sindacato ha dato la propria disponibilità a livello nazionale, ribadendo l'accordo anche a livello regionale. I medici di famiglia, se muniti di ambulatorio ritenuto idoneo con un'entrata ed un'uscita separate, in modo tale da evitare il più possibile il contatto tra persone, potranno quindi effettuare tamponi su appuntamento, seppur in orari diversi da quelli destinati alle visite ordinarie. Chi invece non ha un proprio ambulatorio o una struttura con due diversi ingressi avrà a disposizione, spiega Bartolucci, locali forniti dalla ASL. A Pesaro, ad esempio, la struttura individuata è la sede della Guardia Medica, a Fano invece i tamponi saranno fatti al CODMA. La procedura è già stata attivata ieri ed i medici che hanno dato la propria disponibilità saranno riforniti nei prossimi giorni di test antigenici e riceveranno una istruzione base sul come effettuare i tamponi, che però sono riservati ad una determinata fascia di persone. Primariamente ai contatti asintomatici di un positivo. Quindi, per esempio, se c'è una famiglia, una persona che ha fatto il tampone, dei risultati attivati e tutti i suoi familiari che non hanno sintomi possono usufruire di questo servizio. Oppure, nel caso in cui ci sia una persona che è in isolamento da 10 giorni, che anche questa è asintomatica, può essere liberato facendo un tampone che è negativo. L'ultima possibilità è quella che il medico di medicina generale vuole autonomamente far fare un tampone a un suo paziente che ritiene di poter fare una diagnosi abbastanza precoce. I dati, continua Bartolucci, dovranno essere inseriti in un sito apposito, che però al momento non risulta ancora attivo. I medici dovranno quindi inviare una mail al servizio igiene e sanità pubblica, annotando il numero dei positivi e dei negativi. Problematico, dice Bartolucci, rimane per i dottori utilizzare il sito di Asur, sempre bloccato ed intasato dai troppi accessi. In questo modo, continua, non riusciamo a monitorare la situazione, capendo ad esempio chi è in quarantena e chi no. Il nostro lavoro è cambiato completamente, dice, dalle visite su appuntamento al modo di seguire i pazienti, che ora avviene principalmente per telefono e via mail. In molti ci chiamano preoccupati per avere risultati che non sappiamo dare a causa del blocco del sito. Un mutamento radicale che spaventa molti medici di base, i quali tendono a scomparire nel nulla lasciando soli i propri pazienti. Ci sono tantissimi esempi positivi e non dobbiamo ricordarci che sono morti più di 180 medici, ma tra questi 180 una grande maggioranza sono medici di medicina generale. Quindi il nostro contributo alla causa l'abbiamo dato.